Nella giornata di ieri abbiamo visto tutti i negozi aperti, così come i supermercati, come se quei lavoratori non avessero il diritto di vivere una giornata festiva. Anche oggi, che è la ricorrenza dei defunti, tutto è aperto. E allora le segreterie siciliane di Philcamps, Fisascat e Wiltux invitano tutti ad astenersi dal lavoro senza incorrere in nessuna sanzione. La festa non si vende, affermano, e rilanciano l'avvertenza in favore di quei lavoratori costretti a svolgere la loro attività anche in occasione della ricorrenza dei defunti. Le tre sigle si rivolgono soprattutto ai dipendenti del settore terziario e della grande distribuzione, nella gran parte dei casi, costretti a non fermarsi praticamente mai. Ovviamente, lasciando la massima libertà a quei lavoratori che di contro hanno firmato la clausola di disponibilità al lavoro festivo e domenicale. Queste aperture, chiamate selvagge, affermano le tre segreterie siciliane, nelle giornate festive hanno generato un profondo stravolgimento delle radici culturali, religiose e civili, con la conseguente perdita del diritto dei lavoratori a santificare la festa in nome di un profitto effimero.